The New So, let us have a little reflection about what the holy name is in its orthodox ways. allora facciamo una piccola riflessione su ciò che è il santo nome nel suo significato ortodosso perché praticamente noi possiamo utilizzare il nome di Krishna come un incredibile attrezzo è come la medicina per tutti i mani quindi tutti cercano di venderci qualcosa qui abbiamo la cosa che fa bene per tutto ma non è vero ma il Mahamantra è effettivamente la medicina per tutto quanto perché è il interruttore dell'amore quando lo spegni significa che non canti e l'amore comincia a fermarsi quindi in questa era di Kali il metodo prescritto per elevarsi spiritualmente è cantare il santo nome e andare il santo nome quindi io non so bene dove sono però so che siamo vicini a Sant'Erasmo e questo è il più bello e più importante tempio del santo dell'Italia e a Sant'Erasmo è il più importante e il più bello tempio del santo dell'Italia quindi siamo molto felici di stare qui ai piedi di Sant'Erasmo in compagnia con tanta gente eccitante e bellissima e il significato di essere vivuti insieme oggi è effettivamente uno solo che è incoraggiare noi stessi a risanarci col canto del santo nome questo canto del santo nome è stato introdotto da questo signore lui sta viaggiando con noi e in una delle sue ultime avventure è conquistare l'Inca capital e sarà quella di conquistare la capitale degli Incas gli Incas sono la più grande cultura americana quando qui non avevano manco una strada gli Incas avevano già costruito 400.000 km di strada Praticamente abbastanza per fare una strada che circunnavi di tutto il pianeta Ancora queste strade le stanno ritrovando Just recently in our farm called Goloka in Sierra Nevada, Colombia come recentemente nella nostra fattoria che si chiama Goloka che è nella Colombia hanno trovato una di queste strade degli Incas che praticamente va dai laghetti della salute fino alla montagna e questo è il posto dell'Università dell'Antica Saggezza Delle culture antiche Delle arti antiche Della medicina antica Della antica preservazione della terra e l'antica invocazione del Divino che è conosciuta in tutto il mondo grazie a Città di Mahaprabhu e comunque era già conosciuta dagli popoli antichi che è cantare cantare i nomi del Signore e essere molto grati per questo Quindi stiamo cominciando a dare una piccola lezione noi dobbiamo cantare la canzone di Madre Terra Quindi nel settembre 2012 c'è stato un grande scaccambio di conoscenza in tutto il mondo E' stato il momento nel quale il calendario Maya ha trovato la sua conclusione E' stato anche il momento della celebrazione degli 8000 tamburi E' stato anche la predizione che quando il condor del sud incontra l'aquila del nord E' stato un nuovo paradigma per il sostenimento del pianeta Terra E questo in due posti c'è stato un grande cambiamento in connessione con l'inizio degli 8000 tamburi L'apparenza di Ikhvashen Duna che è una chiamata per tutti gli uomini e tutti gli uomini per diventare guardiani di Madre Terra E quindi c'è stato un richiamo per tutti gli esseri umani di essere guardiani di Madre Terra E' stato l'inizio dell'alleanza dei diritti di Madre Terra E' stato l'inizio dell'alleanza dei diritti di Madre Terra Quindi l'alleanza globale per i diritti di Madre Natura E' stato anche l'unificazione del pacto del mondo con Ikhvashen Duna per il motivo di combinare gli Himalai e gli Andes e tutti i paesi e i monti in giro E quindi c'è stato questo pacto che ha contrassegnato l'unirsi dalle Ande all'Himalaya per il compiersi di questa nuova era Perché ci sono alcune cose alle quali voi potete non essere abituali Vedere la spiritualità in montagne e negli armi e anche nei corpi d'acqua e anche nei cimi innevati e l'acqua che praticamente è come il latte perché scende verso il basso e produce cibo per tutti Qui, lì parte la spiritualità Ma cosa dobbiamo fare? Ma cosa abbiamo fatto fino ad ora? Noi ce ne siamo fregati dell'acqua Abbiamo abusato della terra Abbiamo tagliato tutti gli alberi E poi invece di esserci di mettere una croce e diciamo Praticamente che è successo? Che la gente arrivava, ci metteva una croce e diventava terra sua e chi se ne frega di madre terra? E questo è ciò che è successo alle spalle di Brumara Sant'Erasmo è uno dei più antichi templi di Surya Narayana nel mondo Praticamente è connesso con il Tempio di Konarak in Orissa e un altro Tempio in Bulgaria E con il Messico ed il Perù Questi sono posti di adorazione del sole Quindi noi cosa abbiamo fatto? Ce ne siamo fregati completamente E abbiamo ricreato E abbiamo riportato il nostro atteggiamento eurocentrico come in realtà hanno fatto anche i romani con il loro motto Veni, vidi, vici Allo stesso tempo gli Incas dicevano Il motto degli Incas invece era Non dire le bugie Non fregare la gente E non essere bigliori E invece qui il nostro motto era Veni, vidi, vici Cioè conquistiamo il mondo e tagliamo la testa a tutti E ai tempi dell'Impere Romano Era ancora un momento La guerra era ancora soldati contro soldati Però quando è cominciato il colonialismo Era iron bullets against human frailties Praticamente è diventata pallottole metalliche contro la fragilità umana E praticamente il nostro pianeta è stato conquistato da una violenza che ha regnato negli ultimi 5.000 anni Non conquistato, condannato Che ha condannato Scusate E questa violenza sta andando ancora avanti E un'altra domanda è Possiamo fermare questa violenza? Possiamo fare qualcosa per questo problema? Cosa possiamo fare? Qual è l'avviso di Chaitanya Mahaprabhu? Qual è il consiglio di Chaitanya Mahaprabhu? Possiamo riportare nel giusto fuoco le glorie di madre natura? Come possiamo avere ancora spiritualità reale? Perché i colonialisti non hanno spiritualità Perché i colonialisti non hanno spiritualità No significa no, niente No significa no, niente Non esiste il fatto che te vada a ammazzare la gente dicendo che puoi salvare la loro anima Questo non è l'insegnamento di Gesù Cristo Quindi non fatevi pregare Gli europei hanno abbandonato la religiosità E hanno attaccato gente che erano profondamente religiosi Gli africani erano profondamente religiosi Gli originali popoli dell'America erano profondamente religiosi E le culture nordiche, i samis E allo stesso modo erano profondamente religiosi anche le culture del nord Plus, più Ancora per dirne ancora di più Erano connessi con l'antica saggezza del nord Recentemente è stato scoperto Adoravano la divina coppia col nome Radhanat e Radhika Sia i popoli del nord come Scandinavia, Russia, Norvegia, eccetera eccetera In ogni caso questa è la storia di questo pianeta E la faccenda è cosa faremo adesso? E con una ragione vorrebbe i musicisti di nuovo sul palco E quindi questa iguashenduna abbiamo cominciato a cantare Partendo in India dal Kumbha Mela E è diventato il libro del Kumbha Mela Quindi in tutti i festival stavamo cantando questa canzone A Madre Gange A tutti i fiumi sacri Dedicata a tutti gli occhi A tutte le montagne A Madre Terra 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 E a tutti i santi novi del Signore E con questo canto Abbiamo aperto la campagna della Amazonia E sapete che la Amazonia è già deforestata per un terzo E praticamente stanno lavorando per devastare il resto degli occhi L'oro e il petrolio che sta nell'Amazonia è una grande seduzione Ma ora stanno risuonando nuove voci Noi vogliamo l'acqua, non l'oro Noi vogliamo il terreno coltivabile, non il petrolio A noi non ce ne frega niente Non vogliamo per niente distruggere il nostro sistema di petrolio E questo in accordo ai nativi dell'America Il petrolio che sta sotto terra ha una funzione molto importante E lo stesso oro Quando uno prende questo oro e lo porta via e lo mette in qualche capo Di qualche stupida panca Questa cosa non dà beneficio Quindi è arrivato il tempo di riportare la spiritualità al suo vero significato E questo è la cosa sulla quale stiamo lavorando E voi siete benvenuti E voi potete diventare attivisti indipendenti Independent means each and everyone stands for his own conviction Significa che ognuno si attiva per la propria convinzione Ognuno di noi può diventare una singola istituzione per madre terra Come per esempio ogni donna è una rappresentante della divina santa madre E lei deve dare e lei da nascita al proprio bambino da sola E poi si occupa del suo benessere E quindi la vostra coscienza è quella di dare nascita a qualche progresso energetico Energetico progresso per cambiare la faccia del paradigma della vita E quindi si tratta di cambiare la faccia al paradigma della vita Quindi questa qui è una canzone molto semplice alla quale tutti vi potrete vedere Però il potere che c'è dietro a questa È la campagna per tutte le acque sacre Che è cominciata nelle Amazon E se vuoi sapere più su questo In Youtube puoi cercare per l'Amazonist Festival E voi se ne volete sapere di più Per esempio potete andare su Youtube E cercare il Festival dell'Amazonia